Ciao, eccoci qua di nuovo con la rubrica dedicata ai drama e oggi tocca un genere che io amo particolarmente, i drama storici. Questi drama sono tutti recitati in costume e sono ambientati nella Corea del passato. Spesso sono storie di fantasia, a volte però sono tratti da fatti storici realmente accaduti. I cinque drama che vi consiglierò oggi sono disponibili su diverse piattaforme, ossia su Netflix, su Viki e su Rama Oriental. Man mano che ve li dico vi dirò anche dove trovarli. Cominciamo con un capolavoro assoluto, vincitore anche di tanti premi, ossia The Red Sleeve. Questo drama è ambientato nella Corea del 1700 e racconta la storia del principe Isan. Questo meraviglioso principe si innamora di una dama di corte che si chiama Do Kim e farà di tutto per farla diventare sua concubina. Lei rifiuterà fino all'ultimo perché non ha intenzione di vivere la sua vita nella schiavitù della corte. Per quanto la corte di un re possa essere allettante vista da fuori, in realtà una volta che ci entri non ne esci più e quindi lei preferisce rifiutare questa offerta. Lei appunto farà di tutto per trattenere i suoi sentimenti e per evitare qualsiasi rapporto con lui. Però le cose saranno destinate a cambiare? Non voglio dirvi altro perché è una storia veramente profonda ed emozionante e bisogna preparare anche i fazzoletti. È composto da 17 episodi da circa un'ora e le potete trovare sia su Viki che sul Rama Oriental Fansub. Passiamo al secondo drama storico di oggi, Love in the Moonlight. Love in the Moonlight è un drama del genere gender bender, ossia una donna che si traveste da uomo e lo fa per dispensare consigli amorosi sotto mentite spoglie. Un giorno, mentre travestita da uomo, si imbatte nel principe ereditario ed è così che finirà a lavorare alla corte di questo principe come eunuco, quindi vestito da uomo. Questo principe inizierà a nutrire dei forti sentimenti nei confronti di questo eunuco senza minimamente sospettare che si tratta di una ragazza. Però i suoi sentimenti resteranno immutati anche quando scoprirà la verità ed è veramente veramente una storia bellissima. All'interno c'è anche un triangolo amoroso molto intrigante e questo drama è composto da 16 episodi da circa un'ora e lo potete trovare su Vicky. Quello di cui vi parlerò ora è il drama storico per eccellenza. Chi è all'interno del mondo dei drama ne avrà sentito parlare almeno una volta. Sto parlando di Moon Lovers, Scarlet Heart Rio. Questo drama è famoso per le potentissime emozioni che lascia. È uno di quei drama che quando finisci di vederlo non te lo dimentichi per il resto della tua vita, proprio ti rimane dentro, è inevitabile. Racconta la storia di questa ragazza che vive ai giorni nostri che in seguito a un incidente si risveglia nel corpo di una ragazza che vive mille anni prima. Si ritrova così a vivere la sua nuova vita alla corte di un re con ben 14 principi. Ovviamente questi principi sono tutti uno più bello dell'altro. Penso che sia uno dei cast più belli mai visti prima. Comunque lei instaurerà dei forti rapporti con ognuno di loro e nascerà anche una grande storia d'amore con il quarto principe, famoso per avere una maschera sul viso che dicopre una brutta cicatrice. È una delle storie d'amore più belle di sempre. Veramente ti resta nel cuore e non la scordi più. Questo drama storico è composto da 20 episodi e lo potete trovare gratuitamente sul Rama Oriental Fansub. Il quarto drama storico di oggi si intitola L'affetto reale ed anche questo è un drama in stile gender bender. Alla corte di un re vengono alla luce due gemelli, un maschio e una femmina. La femmina però viene nascosta in quanto sarebbe proibito che un maschio e una femmina condividessero l'utero. Tanti anni dopo, in seguito a un evento, il maschietto principe ereditario viene ucciso e così sotto mentite spoglie la sorella prenderà il suo posto come principe ereditario. Nessuno sa che seduta sul trono c'è una donna che veste da uomo. Ben presto alla sua corte arriverà questo ragazzo bellissimo che farà che diventerà il suo maestro e lui si innamorerà di lei credendo che però è un maschio. Quindi qui abbiamo una bisessualità nascosta veramente molto intrigante. Chissà che cosa succederà quando lui scoprirà la verità e non vi dico altro perché è uno dei miei drama storici preferito in assoluto. È composto da da 20 episodi da circa un'ora e potete vederlo su Netflix. Per finire oggi vi parlo di Warang, un altro drama storico meraviglioso. Gli Warang erano un gruppo di uomini di bell'aspetto che formavano un esercito speciale ai tempi del regno di Silla. All'interno di questo gruppo di giovani eroi si nasconderà quello che è il re. Questo drama mischia divertimento e serietà in modo veramente fantastico perché si ride ma ci sono anche delle parti molto serie di intrighi, di passione e c'è anche una bellissima storia d'amore. Ovviamente il cast di questo drama è pazzesco, sono uno più bello dell'altro e non bisogna assolutamente perdere questo drama perché è il top. Anche questo drama è composto da 20 episodi da circa un'ora e potete trovarlo su Viki. Questi sono solo 5 dei tanti drama storici che pian piano vi consiglierò perché ce ne sono veramente tanti e sono tutti veramente bellissimi. Vi ricordo che potete trovarmi su TikTok come Jessie Vernola oppure su Instagram come KDramaHeart. Alla prossima, ciao!